Il punto interrogativo più grande era legato a questa partita, in cui ancora più grande era la speranza da parte di entrambe le squadre di conquistare la famigerata finale di playoff. Il quintetto ragusano, alla prima palla a due, ricorda in modo estremamente lucido ciò che era accaduto nei primi due quarti, esattamente sette giorni fa, esattamente in quella porzione di campo e non vuole ripeterlo. Il buio offensivo e la paura difensiva, che avevano caratterizzato la sfida del 19 marzo, sono solo un ricordo su cui i virtussini hanno lavorato per evitare di commettere gli stessi errori. Chiusura difensiva, studio preciso di ogni tiro, passaggio e gioco di squadra, sono sicuramente gli elementi che la nuova Virtus si spalma addosso per i primi 5 minuti, arrivando a un parziale di 2 a 10, che fa tremare il palazzetto siracusano, sold out e molto caloroso nei confronti dei propri benemini. Coach Marletta è costretto quindi a richiamare un time out per chiarire subito le idee dei suoi giocatori e scuoterli, ricordandogli il peso non indifferente di questo match. E men che non si dica, gli aretusei rientrati in campo tirano fuori ciò che prima l'inaspettata offensiva avversaria aveva cacciato dentro. Bellofiore ne fa 8 sul finale di periodo, seguito dalla solita certezza del numero 88, il capitano Agosta, e da Alescio ancora in perfetta forma dopo la grandissima prestazione a Ragusa. La nuova fatica un po' a contare l'incursione della retusa, ora spinta dal suo pubblico. È necessario iniziare proprio il secondo periodo per lanciare una rincorsa tra le due squadre, che si affidano ai rispettivi capitani, in un botte risposta di punti sul tabellone. Non a caso il punteggio parziale alla fine dei primi 20 minuti rispecchia esattamente la grinta e il cuore delle due squadre, che quasi a barcollare sullo stesso filo scivolano per poi risollevarsi. Cadono e si rialzano, infuocando gli spettatori con azioni da sconsigliare deboli di cuore. La squadra di Cociti Gregorio mantiene controllo e calma, non si lascia andare alla frenesia, anzi, la difesa risulta davvero impenetrabile. Non a caso solo Agosta, con la sua potenza fisica, riesce a toccare il ferro, seguito da una tripla di Alescio. Ma Alfonso Gebbia preme sull'acceleratore, strappa la palla agli avversari, i quali non riescono a fermarlo se non commettendo falli, trasformati da Ragusani in punti dal valore inestimabile, per chiudere definitivamente su 61-68. Sì, 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 è stata una partita tirata, soprattutto con un pubblico caldo e ringraziamo anche i tifosi che sono venuti a vederci e alla fine l'abbiamo spuntata. Certo, abbiamo incontrato un avversario molto, ma molto duro, che ci ha messo in difficoltà in parecchie situazioni, però con la grinta e soprattutto la difesa siamo riusciti ad andare avanti. Ci abbiamo creduto sempre e sapevamo che era una partita difficile, sono state tutte e tre le partite della serie molto difficili, alla fine siamo spuntati noi in virtù del fatto che comunque siamo un po' più freschi e più lunghi come rotazioni ed è una cosa importante. Da merito a tutti i ragazzi dell'energia che hanno messo nelle tre partite e in tutta la serie in queste due settimane di lavoro. Alla fine noi siamo ovviamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, siamo trovati chiaramente, cosa che sanno tutti, senza mezza squadra. Obiettivamente oggi se avessimo giocato quelli fuori contro quelli in campo della nostra squadra forse avrebbero vinto quelli fuori. Ricordiamo che noi abbiamo perso a metà stagione comunque Andrea Sorrentino che era il mio giocatore che avevamo, quindi già da lì abbiamo fatto veramente i miracoli a tenere i play-off. Oggi è stata una partita che Ragusa ha meritato, sono stati bravissimi, ci hanno messo un'energia tripla rispetto alla nostra, quindi complimenti a loro. Finale conquistata per una nuova Virtus fatta di giovani, in costante crescendo, che ha poco tempo per potersi godere la vittoria dal sapore di sacrificio, umiltà e gruppo. Ma si sa, ormai è abituato a correre e lo farà con estrema volontà, verso Palermo. Gara 1 arriva tra una settimana esatta.